La notizia riguarda sia i malati di insufficienza venosa cronica cerebro-spinale, CCSVI, sia quelli colpiti da sclerosi multipla ed è importante perché potrebbe mettere finalmente fine la controversia scientifica scoppiata intorno alla scoperta fatta 8 anni fa dal professor Paolo Zamboni dell'Università di Ferrara e dalla sua equipe circa la correlazione fra insufficienza venosa cronica cerebro-spinale e sclerosi multipla. Una correlazione rifiutata da una gran parte del mondo dei neurologi che in questi anni hanno posto una tenace chiusura alle tesi di Zamboni peraltro supportate da crescenti evidenze nel mondo della ricerca internazionale che attribuiva alla CCSVI un ruolo importante fra le cause della sclerosi multipla. Oggi la pubblicazione di uno studio a firme di Paolo Zamboni e di Massimo Pedriali, anatomofatologo entrambi ai ricercatori dell'Università di Ferrara apre un nuovo capitolo nel campo della ricerca su questa malattia poiché i neurologi riconoscono che la CCSVI è individuata 8 anni fa da Zamboni come entità patologica e presente non solo ma anche nella sclerosi multipla. La pubblicazione di questa ricerca rappresenta una grande vittoria della libera ricerca medica un ulteriore passo avanti che conferma l'importanza della componente vascolare ed il ruolo che essa gioca nelle malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla. Ad affermarlo è il presidente dell'associazione CCSVI nella sclerosi multipla ONLUS, Gabriele Reccia associazione che da sempre sostiene la ricerca di Zamboni. Non siamo medici, aggiunge Reccia, ma rappresentiamo malati di insufficienza venosa cronica cerebrospinale e sclerosi multipla e i loro familiari e abbiamo sempre creduto che la rivoluzionaria scoperta del professor Zamboni rappresentasse una concreta speranza per i malati, una scoperta che deve continuare ad essere indagata. Grazie a tutti.